Vediamo che cosa fa, quali sono le distopie che genera la tirannide, perché poi tante volte quando parliamo di queste cose, Alessandro e Stefano, la gente dice eh vabbè ma sempre due palle con questi discorsi così drammatici, ma guardate che voi potete pure minimizzare, però voi che minimizzate siete quelli che la storia non l'avete proprio letta perché basterebbe leggere la storia, ma non dico perché per non preoccuparsi bisogna difendersi e bisogna conservare la propria libertà la libertà è un diritto naturale, però poi le persone che vogliono dominarci, perché purtroppo nell'uomo questo istinto ancora c'è è diminuito forse probabilmente un po' l'evoluzione eccetera, ma ancora c'è, non è che possiamo pensare che è scomparso no Alessandro, quindi ancora c'è e dobbiamo difenderci da chi vuole ancora dominarci e che è quello che sta accadendo C'è un istinto di sopravvivenza che è stato massacrato C'è un grandissimo autore, c'è un grandissimo autore ecologista e un po' anarcoide americano, chi amo da morire, che è Toro, no? Che nel suo libro Walden, l'uomo dei boschi, dice questa frase straordinaria Ed è attraverso la finta filantropia che la nostra libertà è stata oppressa Lui dice che se lui fosse nella sua capanna sul fiume e sapesse che ci sono degli uomini che stanno venendo lì per fare il suo bene correrebbe a nascondersi nella foresta Perché nessuno può fare il proprio bene meglio di se stesso Ma hai detto bene, la finta filantropia Grandi autori come Toro e come Juncker, il suo trattato del ribelle lo suggerisco a tutti e anche il Bosco come metafora della battaglia e io credo che siano autori che oggi sono stati dimenticati ma che ci richiamano a quell'imperativo di libertà senza il quale non ci può essere l'evoluzione umana e al quale noi ci riappelliamo ogni volta per gridare il nostro desiderio di libertà che è semplicemente il desiderio di vita E allora siccome noi abbiamo poco più di 15 minuti vediamo un po' un attimo come si esprime la neotirannide che la gente pensa che invece no, è tutto buono, lo facciamo per voi perché siamo buoni Ecco, iniziamo subito perché purtroppo, io lo devo dire, ma senza voler mancare di rispetto ma dobbiamo prendere atto di quello che sta accadendo Come vedete, per fare il nostro bene, il nostro Presidente della Repubblica eccolo qua, lo vediamo qui, lo stiamo vedendo qui Che cosa dice? Dice Sui medi ha troppo spazio ai Novax, l'affondo di Mattarella Mattarella affonda con la sua spada e dice non li fate parlare quelli che hanno paura quelli che non vogliono, quelli che hanno magari dei dubbi quelli che si fanno venire dei dubbi e che magari ne vogliono discutere non li fate parlare gli state dando troppo spazio e questo non viene dal CEO della Pfizer non viene dal capo ufficio stampa o dal direttore generale di Moderna o della Johnson & Johnson No! Viene dal Presidente della Repubblica italiano Ora questa cosa, io ovviamente faccio molta fatica a non usare termini che poi mi potrebbero comportare un vilipendio e quindi sto zitto però però non posso fare a meno di dire e questo questo lo posso fare da cittadino italiano che non mi sento affatto rappresentato da un Presidente che inneggia la censura nei confronti di persone per bene che non hanno commesso alcun reato e che non fanno nulla di male se non voler avere dei dubbi e voler parlare anche perché la definizione di Novax è estremamente elastica è una buffonata colossale è un'etichetta infame che viene data che può prendere chiunque che può prendere chiunque esattamente quindi mi dispiace caro Presidente è alla fine del suo mandato lo poteva chiudere meglio forse 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 esatto forse di questo mandato di questo mandato sì ma non è forse lo poteva chiudere meglio lo poteva chiudere meglio e devo dire che lei non mi sta rappresentando lei non rappresenta un cittadino come me che da 43 anni vive per il pluralismo dell'informazione io sono il suo esatto contrario signor Presidente no io mi sento il suo esatto contrario io credo che è giusto dare voce a tutti anche alle persone che la pensano differentemente da noi e non come lei che dice che bisogna zittire con questo suo affondo come lo definisce Repubblica troppo spazio troppo spazio a chi e perché ma come si permette lei che rappresenta tutti gli italiani a dire che alcuni di questi che vogliono porsi un dubbio debbano tacere io me lo sarei aspettato da tutti ma non certo da lei e questa cosa mi spiace molto perché lei con il cognome che porta avrebbe dovuto dire ben altre cose e questo e questo cosiddetto affondo mi ricorda una di quelle vignette che leggo sempre in rete che trovo in rete mi ha molto divertito e la vorrei riproporre questa l'ho trovata in rete di una persona che chiede un'altra come va in Italia e l'altro risponde non ci possiamo lamentare e quella dice dunque va bene dice no non ci possiamo lamentare ecco questa mi ha ricordato caro presidente questa vignettina che qualcuno simpaticamente ha fatto in rete e che ho riproposto perché dice non ci possiamo lamentare no noi non ci possiamo lamentare dobbiamo stare zitti secondo lei zitti tutti e buoni lì da una parte però parlano 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 questi 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 clown ormai perché ormai sono diventati cantori e tutto quanto uno dei cantori ci diceva l'11 maggio del 2021 cioè quest'anno zoomiamo la parte alta per cortesia se ce la facciamo sennò possiamo anche lasciare così non vi preoccupate dalla regia ecco grazie siete gentili allora diceva l'11 maggio il vaccino di pfizer stiamo parlando del bassotto è uno dei cantori dei cantori moderni di questo trio lescano del trio lescano dei noantri il vaccino di pfizer e presto sarà dimostrato anche per gli altri vaccini funziona su tutte le varianti e non ci sarà bisogno di terza dose qualcuno pontificando come sempre aveva detto che erano vaccini che funzionichiavano un bel tacere non fu mai scritto questo lo ha detto uno dei cantori del trio lescano salvo poi il 24 novembre e vediamo quello che c'è scritto sotto vaccino Bassetti non fare la terza dose sarebbe come non aver fatto le prime due presidente questi possono parlare che oggi ci dicono una cosa domani ce ne dicono l'altra e chi si fa venire un dubbio gli è stato dato troppo spazio presidente eh mannaggia la miseria che figuracce poi ce n'è un altro ancora di quelli che possono parlare ma ci sparano cazzate e lasciatemi si può dire si ragazzi dobbiamo parlare linguaggio popolare se no poi qui alla fine facciamo quelli che ce n'è un altro andiamolo subito a vedere che è una specie di orso yogi che che ci dice per fortuna che Giovanni Totti lo diciamo per gli ascoltatori della radio che non stanno vedendo le immagini c'è l'assonanza c'è l'assonanza per fortuna il nostro paese non sta vivendo la quarta ondata di covid e questo ci deve inorgoglire prima ci criticavano perché unico paese che usava green pass ma diciamolo diciamolo la nostra strategia ha funzionato e ora ci imitano in molti Giovanni Totti qualche giorno dopo da lunedì la Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane un dato che ci aspettavamo vista la circolazione del virus in questi giorni che conferma che ci troviamo nel picco della quarta ondata Presidente questi sono i suoi amici che parlano che possono parlare loro loro possono poi ce n'è un altro direttore generale dell'EMA e oggi consulente del ministro Figliuolo tale Rasi che ha già fatto del ministro l'hai già promosso l'ho già promosso del generale più o meno del grande punturatore a domicilio di quello che ci viene a stanare a domicilio ecco questo Rasi che ha già fatto una figura di merda con Stramezzi quando gli diceva che la tachipirina era un antinfiammatorio e Stramezzi povero gli diceva guarda che non lo è beh un pochino si ha detto una figura incredibile meglio l'aspirina ma no ma quello diceva che la tachipirina era un antinfiammatorio ma non lo è non lo è proprio finisce in in ah ok vabbè questo qui che ha già collezionato una quantità industriale di figure nonostante abbia abbia avuto e ha degli incarichi importanti ci governa ci comanda è quello che dice al presidente e al presidente del consiglio e della repubblica cosa dobbiamo fare noi diceva diceva il 18 di giugno Rasi a mia figlia il vaccino non lo darei adesso sotto 40 anni è meglio non rischiare poi qualche giorno dopo ci dice cioè a novembre quindi un paio di mesi due tre mesi dopo Rasi dice che vaccinare i bambini è necessario per proteggerli dalla variante delta del covid hai capito sempre gli stessi poi io riporto sempre la veterinaria riporto sempre la veterinaria la veterinaria che giustamente noi essendo animali abbiamo bisogno dei veterinari e una delle c'è lo spillover sì lo spillover la veterinaria più diciamo gettonata per la sua capacità di adattarsi al potere di turno che è la capua che ci dice il 9 marzo del 2021 capua vaccino covid fa miracoli tra due mesi siamo fuori detesta lei era già fuori già fuori detesta però anche perché ha detto cioè proprio ieri sempre ad adncronos ha detto che in realtà dovremmo convivere forse per migliaia di anni di anni migliaia di anni vabbè ok però poi noi ci ricordiamo che il grande Einstein ci diceva che il mondo è quel disastro che vedete non tanto per i guai combinati dai malfattori ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono ma stanno lì a guardare ecco questo è quello che ci diceva ci ricordava Einstein e noi proprio un violento un nodo violento che scherzo un nodo terrorista